Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Gita. Oggi voglio portarvi un tutorial, il tutorial che mi avete chiesto nei mesi passati, cioè quello di riportare, cioè di come costruire la macchina. Inizieremo da quello che è la scocca della macchina, il telaio con tutti i suoi pezzi che andremo a montare all'interno. Non ci sono particolari prerequisiti, dovremmo avere già tutto quello che ci serve e niente andremo a montarla. L'unica cosa dovete andare come unico prerequisito iniziale, andare nel catalogo e acquistare questo. Una volta che lo acquistate cliccate, fate l'ordine, andate imbuccare la busta dove c'è il negozio, cioè qui, a peraggiarvi. Vi arriva dopo qualche giorno, uno o due giorni, lo andate a prendere perché vi servirà insieme anche a quest'altro, perché sarà quest'altro che tra l'altro non so dove ho messo, adesso cercherò di recuperarlo. Ah no, era lì, è ok, è qua. Allora, iniziamo a montare quello che è la macchina, io ho già montato i sedili ma questo cambia poco, ho già montato anche la parte dietro, però insomma adesso vi spiego tutto. Allora, la prima cosa che andremo a montare è il subframe. Il subframe lo montiamo qua davanti, bisogna girarlo nella parte giusta finché ci esce la V, ok, lo montiamo e a questo punto andiamo a montargli le viti, quindi in questo caso andiamo a primare il tasto 2 e gli montiamo la vite 10. La vite 10 avremo 4 bulloni da mettere, dobbiamo andare a trovare dove sono, ecco uno lì, ok, andiamo in modalità avvita perché col tasto SF potete shiftare da una modalità all'altra, quindi andiamo ad avvitare la prima parte, le 4 viti cioè, ecco nella seconda. È veramente fastidiosa questa cosa di questi rumori molesti che succedono qui, comunque vedete che dopo un po' ci farete l'abitudine e inizierete a capire dove sono le viti di ogni cosa, soprattutto perché l'auto di gioco è predisposto per farvela smontare più volte, però intanto al momento per quanto riguarda questi pezzi, dato che non sono elementi diciamo meccanici, diciamo di funzionamento con carburante così, potete anche montare così come sono e poi sistemarli pezzo per pezzo. Pezzi il motore, poi quello è un altro discorso, lo vedremo. Dopodiché dobbiamo montare il wishbone. Allora, il wishbone front, ok, ne montiamo, montiamo il primo. Al momento non serve metterlo sul, mettere la macchina sul cavalletto, insomma, quindi col caric, quindi li posizioniamo. In questo caso abbiamo due viti da 10, quindi giuste, ognuno per ognuno, quindi qua vedete la prima, avvitatele bene fino in fondo e qua vedete la seconda, quindi per una e due. Ok, abbiamo avvitato la seconda, anche del secondo pezzo e quindi possiamo passare allo spindle su entrambi i lati. Quindi prendiamo lo spindle, lo montiamo su ambo i lati, ok, e lo andiamo a fissare, in questo caso con vite 12. Quindi andiamo ad avvitare, c'è una vite soltanto in questo caso che mi è uscito un attimo fa. Attenzione, fatelo bene, tenete il mouse fermo in modo da poterlo fissare. Quando voi andate, questo deve essere una regola, quando voi montate qualcosa sopra un'altra cosa, questa cosa si stacca, non è un bug del gioco, ma significa che, come in questo caso, se dobbiamo andare a montare il disc brake e lo montate e si stacca tutto, vuol dire che manca una vite. In questo caso montiamo anche il disco che adesso mi è finito qua sotto, però lo riesco a prendere tranquillamente. Fissiamo anche il disco, ok, e abbiamo i due dischi montati. A questo punto dobbiamo montare l'alpha shaft, che è questo, alpha shaft, qua sotto. Cerchiamo il modo di metterlo correttamente. Eccolo lì, uno. E montiamo anche il secondo. Se non va, lo ruotate, insomma, di 180 gradi. Ok, a questo punto dobbiamo fissarlo con due viti ognuno, con vite da, con misura 9. Quindi prendiamo la 9 e la andiamo a fissare. Allora, in questo caso dobbiamo cercare le viti dove sono. Eccola lì, una. E una, due. E c'è anche dall'altra parte una. Senza dover fare il giro della macchina dovremmo riuscire... no. dobbiamo fare il giro anche per la seconda vite. Fate attenzione a fissare bene tutto perché sennò si rompe tutto nel momento in cui poi voi andate a usarlo. Ok, abbiamo fatto l'alpha shaft. Ora andiamo a fare le struts, che sono queste sorte di ammortizzatori. Struts con la molla verso l'alto. Andiamo a metterle qui. Cerchiamo di metterle nel punto giusto. Cerchiamo di prenderle anche nel punto giusto. Se non erro dovrebbe essere in questa direzione qui. La direzione giusta. Infatti qua fuori. Una. Se vi si smonta tutto, ripeto, perché non avete fissato qualcosa. Una e due. Perfetto. In questo caso le struts vanno fissate sempre con quattro viti da 9 mm e tre da 10. Quindi andiamo a metterle... andiamo prima a metterle da 9 che sono quattro. Dovrebbero essere due per lato qui. Quindi fatti una, due, tre e quattro. Dovrebbero esserci tutte in caso si va a rivedere se c'è qualcosa di... di non fissato correttamente. Sì, perfetto. Mettiamone una. Mettiamo che l'altra. Poi vabbè, se lo volete fare alla cieca, lo fate alla cieca. Se volete entrare come sto facendo adesso, è una cosa un po' più comoda. Ovviamente dovete fare attenzione perché se avete dei mouse iper sensibili, dovete abbassargli magari la sensibilità, non evitare che vi esca tutte le volte da... infatti... ok, fissato giusto. E ora fissiamo le altre due. Sarà un tutorial piuttosto lungo, anche su più episodi, perché appunto è lungo. Ci vogliono perlomeno, credo, un paio d'ore a fissare la macchina completamente. Fatto questo da 9, andiamo a prendere quello da 10. E le andiamo a fissare. E' comoda questa chiave perché potete... anziché usare quelle... la chiave inglese che c'è di base, che è lì dentro. Qua potete selezionare avvita o svita e qualsiasi direzione date alla rotellina del mouse, potete anche fare su e giù e via avvita. Premete F e svita, quindi non c'è il rischio di svita per sbaglio. Ok, fissate anche le struts. Andiamo a montare lo steering rack, che è questo, che dovrebbe essere una parte, una sorta di parte che va messa qua in mezzo, capire bene dove. Eccola lì c'era, c'eravamo. Eccola lì, l'abbiamo fissata. Eccola qua. Non so se è la carimagliera dello sterzo. Lo steering rack, quattro viti da 9 mm. Io ringrazio CJ Games, da cui ho preso spunto per questo video, perché lui ha fatto un tutorial completamente in inglese, ho detto perché non portarlo anch'io in italiano. Poi non è che io stia copiando, perché alla fine il gioco è così per tutti, però. Allora, una, due. Poi a me dà un fastidio vedere la macchina così arrugginita, ma credo ci sia poco da fare, almeno su queste cose. Abbiamo avanzato un pezzo. Che cos'è questo? Steering rod. Sì, quello ci pensiamo dopo, arriva dopo. Uno, due. Ok, abbiamo fissato steering rack con quattro viti e ora lo steering rod sinistro e destro. Quindi questi sono i braccini dello sterzo che ci consentiranno di far sterzare le ruote. Oh, è uscito. Una volta che sapete dove vanno le cose, le mettete senza troppi problemi. Però, insomma... Eccolo qua, così. Montiamo anche l'altro. L'ho messo da quella parte lì un po' orientata verso il sotto della macchina, qui. Questa zona qui vedete che si aggancia qui, quindi basta avvicinarlo qua. E ok. Lo steering rod si avvita con due viti da 12, quindi 2, 2, 11, 12, 12. Ed eccola qua. Questa è la vite 1. E adesso vedete che va ad allinearsi il disco. E anche qua. E qua vedrete che poi... Ok. Le ruote sono agganciate. Ok, dobbiamo montare ora i trail arm. I trail arm posteriore destro, posteriore sinistro. li ho già montati. Vedete qua? Si posizionano qui e si avvitano con due viti cada uno da 12. Quindi quelli che abbiamo già messo si avvitano qua. Vedete? Uno e due. Uno e due. Uno e due. Ok. Questo passaggio l'avevo già fatto. Poco male, nel senso che non è nulla di complicato. Ora bisogna montare il drum brake. Quindi la campana, insomma. Il tamburo, ecco. come si definisce. Traduzione è letterale. Il tamburo. Ok. Montato anche il tamburo. Andiamo ad avvitarlo con una vite l'uno da 14, quindi su viti belle grosse. Qua è abbastanza intuitivo. La vita è al centro. Quindi avvitiamo la vite. Vedete che ci sono già le quattro viti su cui alloggerà la gomma. Ma la gomma è un discorso a parte perché dovremo andare a recuperarle. se avete visto i gameplay precedenti, degli corsi mesi o anni, bisogna recuperarli nella casa sperduta. Però quello ci arriveremo. Non monteremo nessuna gomma oggi. Adesso andiamo a montare la coil spring. La molla che si monta qui. Va a incastro. la molla. Era uscita un secondo fa. Eccola lì. Ok. La macchina inizia a fare dei rumori assurdi, ma è assolutamente normale. Se giocate da tempo, bene, lo conoscerete già questo rumore. Parte a ogni caricamento, un rumore del genere. Andiamo a incastrarla bene. Magari poi vi basate un attimino su come è piazzata la molla dall'altro lato, però dovrebbe essere così. Quindi la mettiamo qua. Ok. Messa anche la seconda. A questo punto, messa la seconda coil spring, dobbiamo mettere l'ammortizzatore, quindi lo shock absorber. Non c'è distinzione tra quella anteriore e posteriore. Dobbiamo andare a montarla. eccolo qua. Il primo va messo lì all'interno del foro. E poi la seconda qua all'interno del foro. Almeno ci si prova a farlo combaciare fino a che non ci dà l'ok il gioco, che la posizione è quella corretta. Ok. Messo anche questo, lo shock absorber sono quattro viti, cioè sono due misure diverse. Sono due viti da 6 mm, quindi iniziamo subito con quelle più piccole, che vediamo dove vanno messe. Allora, vediamo se ho preso quella giusta. Sì. Due viti da 6 mm e una viti da 12 mm. Quindi... una. C'è un'altra qua sotto. Michino. Una e due. Ok. Facciamo la stessa cosa dall'altra parte. una e due. Perfetto. La seconda vite è quella da 12. Vite, io le chiamo viti, ma non sono viti. Che va fissata qua in alto. Eccola lì. Si intravede. Una. Dovrebbe essere accessibile dal motore, infatti. eccola lì. Dovrebbe essere questa. Una e due. È figo quando poi iniziate a prendere confidenza con la macchina e sapete dove mettere le mani, insomma. E qua abbiamo messo tutta la parte, la prima parte. Dopodiché si inizia ad operare sul... il piantone dello sterzo. Quindi... la colonna dello sterzo, chiamata anche così. Steering Column. Ok. La si mette qui. Era uscito un secondo fa. Ok. Messa. Si fissa con due viti da 8 mm. Quindi... due. 8 mm. E si va a fissare. Non ho idea di dove, ma credo qua sotto. Ok. Una. E due. Queste sono cose che difficilmente quella dello sterzo andrà a smontare. In futuro. Ora, si va a montare gli impianti. Gli impianti di... ehm... Frenaggio, di... E di... No. Sì. Di freno e di frizione. Quindi, si va a prendere... Sono qua. Brake lining. E quello di là. Che è il clutch lining. Quindi, brake lining e clutch lining. Andiamo a montarli qua davanti. Adesso dobbiamo trovare la posizione giusta. Eccola qui. Una. E l'impianto per la frizione clutch lining. Fortuna che una macchina vecchia, sennò sulle nuove sarebbe molto più complicato. Ok. Ok. Eccolo qua. Adesso questa è forse la fase più complessa. Più complessa, per virgolette. Si va a prendere il cilindro dei freni. Quindi, dove si riempirà di liquido di freni. Il tutto. E si vanno a montare qua. Ehm... Non hanno viti. Nessuna di queste cose ha viti. Quindi si posizionano... Ecco, bisogna fare attenzione perché succedono anche queste cose. Nel gioco. Ehm... Ok. Ehm... Vi accorgerete che... Dovete fare attenzione a quando vi mettete tra voi la macchina. E lo capirete. Poi vabbè, a spinta, premendo il tasto J, rimetterete a posto la macchina nella direzione giusta. Comunque, ora, stavamo piazzando questo. Stavamo piazzando il... Adesso è un po' più spostata, un po' più comodo. Calcolando che siamo anche al tramonto. Quindi, lavorerò finché le ore di luce lo consentono. Ehm... Allora. Ho preso una cosa che non mi serviva. Allora, abbiamo messo il Brake Master Cylinder. Ora andiamo a mettere questo, che sembra una pistola per pitturare. E che è il Clutch Master Cylinder. Dove all'interno avremo il... Il liquido, appunto, per la gestione della frizione. Si posiziona qui. Bisogna sempre fare attenzione a non fare lo sbaglio che ho fatto io prima di mettermi sotto la macchina. E... Eccolo qua. Ok. Ora, siamo... Ehm... Vabbè... Facciamo una cosa giusto così veloce. Che è quella di fissare i pedali. Quindi andiamo nuovamente ad aprire questa. Prendiamo la chiave numero 9. E andiamo a fissare questa cosa qui. Giusto così per non dimenticarcene dopo. Che sono queste due cose qua. 1 e 2. Ok. No. Allora, adesso andiamo a stringere tutte le viti. Perdeteci anche 5 minuti. Prendiamo la chiave inglese, la numero 7. E... E andiamo a stringere con la chiave inglese tutti, tutti i condotti. Dicevo perdeteci tempo perché ce ne sono diversi. Dobbiamo stringere tutti i condotti. Andiamo ad evitare che si disperda poi del liquido dopo all'interno. Perché qua passerà l'olio dei freni, l'olio della frizione. Passeranno tutte le cose. Sono una decina di viti, se non ricordo male. Ok. E vedete anche qua ce ne sono di nascoste. Quindi fate molta attenzione. Adesso abbasso un secondo la sensibilità del mouse. possono evitare di sbarellare. Però questo si dovrebbe poter fare solo con la chiave inglese. Quindi l'avete già. Ok. Facciamo passare bene. Tutte le viti devono essere avvitate. Ok. Ce ne sono anche qua. E poi anche in fondo. Ok. Anche qua in fondo dovrebbe esserci qualcosa. Eccolo lì. Perfetto. Anche qua. Quindi sicuramente io adesso qui mancherò qualcosa. Però voi prestate più attenzione. Perché lì dietro è già fissata. Qua è già fissata. Qui non c'è niente. No. Dovremmo essere a posto credo. Poi. Ultima cosa. Tra le più complicate. E' fissare i tubi alle quattro ruote. Per quanto riguarda i freni. Quindi si dovrebbe fare ancora con la chiave da 7. Qua. Infatti vedete. Questo è il condotto che porta l'olio a far pressione sulle pinze e sui tamburi per il freno. Quindi qua abbiamo uno. Qua abbiamo l'altro. E fate la stessa cosa dietro. Dove arriva il tubicino. Ok. Credo sia solo lì. Non più qua. Qua in giro non dovrebbe esserci nulla. No. No no no. E' solo uno. Ok. Mettiamo l'ultima. Che è qua. E ok. No. Avvita 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 avvita. Ok. Fatto questo. Possiamo passare oltre. Possiamo andare a montare gli electrics. Quindi. E' una cosa che mettiamo già in predisposizione poi del motore. Che sono questi. Electrics. Si va a montare nella parte sinistra. Cioè in realtà a destra. Guardando dal lato di guida. Si va a montare qui. A fare sempre attenzione a non incasinare le cose. Eccolo qua. Ok. Lo si monta già in predisposizione del motore. Due viti da 8 mm. Voglio tornare ad usare quello un po' più comodo. 8. E si va a fissare. Questo. Perché sarà un altro paio di maniche. Quando poi dovremo mettere. Tutto il cablaggio elettronico all'interno della macchina. Ok. Uno, due. Messo. Ora iniziamo con delle cose un pelino più soft. Iniziamo a mettere l'impianto di raffreddamento dell'acqua. Quindi il radiatore. Il radiatore va davanti ovviamente alla macchina. Quindi qua è molto semplice. Eccolo lì. Ok. Eccolo lì. Il radiatore si va a fissare con 4 viti da 7. Quindi prendiamo la vite da 7. Che è questa. Andiamo a fissarla. Qui. Una. Due. Vi dico. Dà una rara soddisfazione tutto questo. E non si impara mai. Fin quando non si fa mille volte. Radiatore messo. A questo punto abbiamo... Ci sarebbe una cosa da dire ora. Iniziamo a montare il cruscotto. Il cruscotto è questo. Se andate nella discarica potete trovare quello che vi fa da contagire. Io al momento non ce l'ho. Quindi montiamo l'orologio. Che è sempre comodo al momento. Fin quando non avremo almeno l'orologio normale. Allora montiamo quello. E... Lo dobbiamo fissare con due viti da 7 mm. Quindi lo porto fuori. Sta diventando anche buio intanto. Ma magari riusciamo a lavorare lo stesso. Due viti da 7 mm. Però dovremmo averlo già equipaggiato. Infatti. Lo avvito uno. Avvito l'altro. Poi sarà figo smontare tutto. Una volta che sapremo mettere le mani nella macchina. E cambiarlo. Nel caso in cui dovessimo entrare in possesso dell'altro. La cosa importante adesso è questa. La dashboard base. Diciamo base. Lo scheletro. Si va a montare con due viti da 10 mm. Quindi in questo caso andiamo all'interno della macchina. E lo montiamo. Qui. Non entro in driving mode. Ma voglio proprio montarlo. Lasciami in pace. Fammi montare sto affare. Allora vediamo un po'. Come montare sto affare. Eccolo lì. Perfetto. Si va ad aprire questo. E viti da 10. Quindi abbiamo detto due viti da 10. Quindi tag. State prendendo punti? Sono due viti in realtà qui. Quindi una è qua. E una è qua. Ok. Fissato questo. Vabbè qua possiamo anche chiuderlo. Ma in realtà ci servirà ancora. Fissato quello. Montiamo la dashboard. Quella con gli strumenti. Che è questa. Quindi. La ruotiamo. La mettiamo già pronta per... Vorrei prenderla giusta. Così. Così non devi evitare di... Magari mandare in crisi il gioco. Ok. E qua lo fissiamo con due viti da 6. Se non ricordo male. Sì 6. Quindi tag. Due viti solo. Ok. Due viti soltanto. Allora. Ora. Prendiamo già la vite da 10. Perché con la vite da 10 si va a montare il volante. Il volante monteremo quello che ho trovato. Nascosto. Tra i ottami dell'officina. Ma se volete potete. Avete già un volante qua da montare. Che è questo. Non è proprio bellissimo. Rimonto il volante GT. Spero non mi dia problemi in revisione. Comunque voi nel dubbio montate quello normale. Adesso mi piace sperimentare. Ok. Una vite da 10 in questo caso. Quindi. Avvitiamo. E siamo a posto. Montato il volante. Iniziamo con la fuel. Tank pipe. Iniziamo con il rifornimento. Quindi con tutto l'apparato di rifornimento. Che dovrebbe essere. Questo freno a mano. Questo è il cric. Ecco. Il fuel tank pipe. Per farvi capire che cos'è. E dove fate il pieno. Di benzina. Quindi lo dovete far combaciare con. Il foro qua. Vedete che. Perfetto. Si monta quello. Ora si monta il boot led. Che altro non è. Che è il cofano. Eccolo qua. Sta diventando anche buio intanto. Adesso vediamo se riesco a. Accendere la luce. Continuo a lavorare. Uh. Ho sete. Rischio di morire. Quindi bevo. Intanto non abbiamo niente da fare domani. Quindi possiamo lavorare tranquillamente. Vediamo se riesco a. Accendere la luce. Aprivo anche questo. In modo che mi faccia un po' di luce. Montiamo il boot led. Quindi iniziamo a montare la carrozzeria della macchina. Che è veramente brutta. Brutta rovinata. Insomma. E tutto l' resto. Eccolo lì. Tac. Montato. E per fissare il boot led. Abbiamo 4 viti da 6 mm. Quindi. Ci mettiamo subito all'opera. 6 mm. 7, 6. Tac. E andiamo a. Fissarlo. Che non ho idea di dove siano ste viti. Però. Posso aprirlo? No. Saranno qua. Ecco lì. Ho rischiato di nuovo. Ho rischiato veramente di brutto. Sto rischiando tuttora. Infatti. Non me la. Non me lo sta fissando bene. Ok. Adesso sì. Allora. Dovremmo fissarle. Eccole lì. Le viti. Sono 4. Una volta fissate. Siamo a posto. Eccole lì. Una. E due. Perfetto. Fissato. Adesso possiamo aprirlo tranquillamente. Vedete che funziona. Così. Allora. Poi. Si fissano i sedili. Tutti con viti 9. 9 mm. Sedile davanti. Sedile del passeggero. 4 viti. Una. Due. Tre. Quattro. Una. Due. Tre. Quattro. E sedile posteriore. Due viti. Qua davanti. Vengono messe qua. Adesso vediamo se riesco a farvele vedere senza far ribaltare la macchina. Eccole qua. Una. E due. Quindi montato quello. Possiamo iniziare a montare le porte. Vediamo un attimo. Le porte. Porta a sinistra. Porta a destra. Vediamo. Tanto questo è tutta discesa. Insomma. Iniziamo a dare una forma alla macchina. Così. Da lasciare per ultimo. Soltanto il motore. La portiera. La stiamo distrattando. Ma ha i suoi problemi anche lei. Porta a destra. Ok. Se non vi sembra. Boh. Vabbè. Dai. Prego. Montati. Ok. Adesso è montata giusta. Allora. Porta a sinistra. Porta a destra. Tutte con la vite del 10. Quindi montiamo la vite del 10. E sono esattamente 4. No. Dovrebbe essere. Sì. 4 viti. Tutte qua a lato della portiera. Quindi. Una volta avvitata. Tiriamo un sospiro di sollievo. Perché. Il peggio è passato. Ok. Facciamo la stessa cosa. Anche con la porta a sinistra. Che io ce la mandi buona. Perché. Speriamo che non mandi in orbita la macchina. Però vi ripeto. Questo è un gioco che si ama o si odia. E. E se vi piace. Vi piace perché è l'unico che vi porta a fare delle cose. Che sono. Che sono. Appunto. Vivere una vita parallela. Fatta. Così. Quindi. Ci passate sopra tutti questi problemini qui. Perché non me lo fissa? Scusi. Adesso. Adesso ci sono le viti. Non so perché ma. Non gli piace mettere. Le portiere. Ok. Abbiamo fissato le due portiere. Porta a sinistra. Porta a destra. Adesso abbiamo. Da montare. Altre due parti. Che sono. Ed è tremendamente buio. Adesso ormai qui. Quindi. Prima di interromperci. Montiamo queste. Queste ultime due parti. Con viti da 5 mm in una. Ve lo dico già. Montiamo i fender. Fender a destra. Fender a sinistra. Così giusto per non faccia mancare niente. Quindi. Montiamole così. Perché la rotazione è solo in verticale. Quindi. Fender a destra. Che non si monta. E non si sa il motivo. Dai. Monta. Ok. Con tre viti del 5. Quindi. Cinque. Blocchetto del 5. E. Si vanno a mettere. Non ho idea di dove. Qua davanti dovrebbero essere. Ok. No. Dobbiamo. Era una sola. Una sola davanti. Poi montiamo la griglia. Come avete visto. E con la. Vite 6. Avvitiamo. Questo. Quindi alla fine sono. Tre sopra. E uno di lato. Per i due fender. Errore mio. E poi abbiamo montato anche questo. Poi. Andiamo già a prendere la vite 8. Perché le ultime due cose che vedremo oggi. Sono queste. I due paraurti. Paraurti frontale. Il bumper frontale. E il bumper posteriore. Adesso. Questa. Vorrei mai mi si scaricasse la torccia. Ok. Poi. Vite 8 abbiamo detto. Quindi andiamo a fissarla. Eccole qua. Uno. E due. Ok. Poi. Ultimo. Ma non ultimo. Il bumper posteriore. Quindi l'auto inizia già a prendere forma. Direi che ormai manca l'impianto elettrico e il motore. Che andremo a fare prossimamente. Ovviamente dipende se volete continuare questa sorta di guida. E hop. È normale questo. Non dite che a voi le cose quando le montate vi riescono al primo colpo. Ok. Di solito si va avanti a Santi. Eccolo lì. Ok. Uno. E poi dovrebbe essere da questa parte. Eccolo lì. Il due. Ok. Che faremo. Allora. Vi chiedo. Di farmi sapere che cosa ne pensate. Di questo. Tra l'altro. Non ho montato il fender dall'altra parte. Ma volevo finire per forza. In tempi brevi. Adesso provvederò a montarlo. Volevo chiedervi. Allora. Dato che ci ho impiegato anche un certo tempo a fare questo video. E credo sia stato uno di quelli. A cui sono dovuto stare più dietro. Fatemi sapere se vi interessa vederne un altro. Fatemi sapere se vi va di andare avanti con questo diciamo progetto del tutorial su come assemblare la Satsuma in My Summer Car. Non sarà sicuramente un video a livello o un tutorial a livello di altri che si trovano in internet. Magari sarà forse il tutorial più aggiornato in italiano. Però insomma la costruzione e poi l'assemblaggio del motore è un altro paio di maniche. Quindi lo andremo a fare prossimamente se questo video vi sarà piaciuto insomma. Fatemi sapere e alla prossima. Ciao ciao.